autentico automatico ed ecco ci ricasco qualche parola che getto a caso e vado di mestiere non certo come il miglior fabbro ma il mio lo faccio ma questo mi chiedo è onesto non dico che prima di metter mano mi debba consumare nell'attesa dell'illuminazione stanca e offesa dall'indifferenza ma neanche l'occasione attendo piuttosto me la do a pretesto è onesto dico questo ma poi che importa se l'emergente urgenza è assente dal contesto la penna nella mano comunque porta la sua testimonianza